Sono Marco, lavoro in Tebis da ormai 21 anni, faccio parte dello staff tecnico. Mi occupo principalmente di post-processore e macchine virtuali. I post-processore e macchine virtuali sono quello che permette al nostro software di dialogare con tutti i controlli numerici delle macchine utensili. Viaggio tanto, viaggio chiaramente per lavoro, perché devo andare a trovare i nostri clienti e coccolarli, fargli un collaudo, cambiare anche soltanto due chiacchiere. E quindi la parola d'ordine è organizzazione. Io devo organizzare tutto in modo autonomo, il viaggio, quello che sarà il lavoro che devo fare. Questa organizzazione mi ha aiutato tantissimo nella passione più grande che ho nella mia vita, che è quella di viaggiare.